Ciao, benvenuta Vergine, segno della Vergine. Allora, segno, ascendente o luna? Andiamo a vedere che messaggio c'è per te, poi ti scriverò il titolo a seconda di quello che viene. Bene, allora andiamo a cominciare con le carte dei sogni, vediamo un po' l'energia di base di questo momento, che cosa ti vuole dire, e poi andremo a fare una croce celtica. Ma ricordati di guardare anche il tuo ascendente, perché c'entra molto, è molto importante, almeno l'ascendente. E vedi, comunque a te Vergine piace tutto sommato viaggiare, perché sei un mercuriale, quindi ti piace viaggiare anche solo con la fantasia. Allora, questa carta, come energia, diciamo, di base, su cui adesso andremo a fare una croce celtica, dice che in tante cose, che in questo momento hai bisogno o di fare un viaggio, o di conoscere persone nuove, o che alle volte ti senti anche un po' estraneo al mondo in cui tu stai vivendo. Quindi è come se ti sentissi un po' uno straniero in patria in questo momento, perché secondo me Vergine, tu che sei così attenta, che ascolti molto gli altri, cioè gli osservi, gli osservi, ma a te non ti ingannano molto facilmente, perché sei appunto un osservatore e ti conquistano con calma. Secondo me questa carta rappresenta proprio il sentirti un po' diverso, almeno in questo momento, forse alle volte anche non completamente compreso o compresa. Quindi andiamo un po' a fare una croce celtica e vediamo che cosa ti vogliono dire queste carte. E che potrebbe essere qualcosa che ti sta per accadere, oppure potrebbe essere un messaggio. Voglio lasciare alla tua energia Vergine di base, concentrandomi, proprio guardando il tuo glifo, diciamo, proprio vedere che cosa hanno da dirti le carte. Potrebbero dirti qualcosa che accade, ma anche qualcosa che riguarda te. Non sappiamo. Allora, qui le mettiamo giù perché sono spessissime queste carte. Ecco, vedi, cominciano a dire che, vedi, se la colleghiamo a questa carta, probabilmente molte persone di voi, o la maggioranza di voi, o chi ha l'ascendente appunto in Vergine, in questo momento si può sentire effettivamente un po' diverso, diciamo, dagli altri. Si può sentire, come dicevo prima, appunto uno straniero in patria, quindi è un periodo in cui stai riflettendo su tante cose. Però mi viene anche da dire che non è che sei proprio fermo in questo momento, ti stai muovendo. Ti stai muovendo nel modo giusto perché tu, alla fine, anche se non sempre sei proprio ottimista, diciamo vuoi raggiungere dei risultati, ma in particolare un risultato. E qui questo meraviglioso associ parla proprio di un risultato, di qualcosa che nasce proprio dalla tua mente, ma anche in comunicazione col divino. Quindi tu in passato, o un recente passato, in un lontano passato, perché qui rappresenta il passato, hai proprio avuto un amore bello, hai vissuto un amore bello che ti è piaciuto molto, che ti è sembrato quasi di volare. Non è così facile conquistarti a te, eh Vergine? Perché insomma sei un po' lento, non è che ti butti subito, proprio perché osservi la persona, ti tuteli, diciamo, è un po' la tua natura fare questo. Poi tu puoi avere magari un ascendente, che so, in fuoco, se sei del segno della Vergine, e allora magari esternamente i tuoi atteggiamenti possono essere diversi, oppure magari hai tanti pianeti nel segno di fuoco, per esempio, allora uno dice io non sono così lento, oppure così pensatore, alle volte mi ingannano anche a me. Sì, non voglio dirti questo, voglio semplicemente dirti un po' le tue caratteristiche di base, che vengono fuori, peraltro, da questa croce celtica. Ecco, quindi io so che sto parlando con un segno della Vergine, o ascendente Vergine, o l'Uno, o anche Venere, che è il modo di amare anche, no? Però, continuando qui nella stesa, qui viene proprio una gioia, quindi è collegato anche a questa carta, che poi è l'ultima della croce celtica. Ti ho detto che, secondo me, questa carta rappresenta anche un'intuizione proprio che ti viene dal cielo, perché tu sei anche un po' medianico, sensitivo. Quindi ti arriva, secondo me, è sempre collegato a te questo che ti sta per accadere. Quindi ti arriva proprio un'intuizione, un qualcosa, un pensiero, un sogno. Ti arriva qualcosa che ti cambia l'energia. Forse riguarda l'amore, chi lo sa, vediamo. Allora, riguardo qui dicono soprattutto un tuo stato d'animo. Ecco, ultimamente, secondo me, c'entra molto la prima carta, ti sei sentito un po' non compreso, un po' diverso, un po' diversa. Qui le carte, come vedi, vanno a finire comunque di nuovo sull'amore. Forse hai una pena d'amore, stai aspettando qualcuno. Però io ti posso dire che, visto che comunque tu sei un segno piuttosto paziente quando vuole veramente raggiungere qualcosa, mi viene da dire con questa bellissima temperanza sopra proprio questa persona del cuore, potrebbero anche essere due persone diverse. Una persona del passato, che è stata molto importante per te, che ti ha fatto appunto volare per le sensazioni, per le emozioni che ti ha dato. Una persona che potrebbe essere la stessa, questo lo sei tu, o una persona nuova che arriva proprio perché a un certo punto, secondo me, questa luce che ti arriva proprio, mi viene proprio da dire, dall'universo, dal cielo, ti farà vedere, almeno per un certo periodo, per questo prossimo periodo che stai guardando le carte, ti farà vedere tutto in una luce più di calma. È come se tu, che alle volte sei un po' ansioso, soprattutto se le cose non stanno accadendo, secondo me invece troverai una bella pace, una bella calma. Secondo me è tutto un po' angelico, mi viene da dire questo. Comunque avrai grande soddisfazioni. Secondo me raccoglierai soddisfazioni anche lavorative, però qui, devo dire la verità, le carte si stanno proprio concentrando sull'amore, quindi per qualche segno ho visto che vanno più sulle cose pratiche e qualcuno va più sull'amore, no? Tu comunque alla fine sei anche dolce e sensibile, proprio quando una persona ti conosce bene fino in fondo, quindi io ritorno a dirti che ti arrivano comunque delle nuove idee, potrebbe essere una nuova idea di vivere, proprio perché, e per fortuna mi viene da dirti, ti sei sentito così diverso ultimamente, diversa o diverso ultimamente, ti arrivano proprio delle nuove idee e tu stai studiando un piano, a te piace comunque leggere, studiare, informarsi, se no che mercuriale saresti, no? Quindi secondo me tu puoi anche studiare un piano nuovo, un piano, un progetto, ma potrebbe anche essere uno studio specifico, per esempio sull'amore. Magari vai a fare un corso sull'amore, sulle relazioni di coppia, oppure stai leggendo qualcosa di interessante, oppure perché no stai leggendo qualcosa che riguarda l'astrologia, il tuo segno, il suo segno, la sinastria, le comparazioni, comunque c'è qualcosa che ti spiana la strada rispetto a questa sofferenza. Andiamo un po' a vedere di più. Allora vediamo un po' di metterci dei tarocchi per capire proprio che cosa poi nei fatti ti accade, perché poi tu alla fine i fatti li vuoi vedere, eh cara vergine. Allora, allora mi viene da dirti che per fortuna uscirai da questo momento difficile, perché anche qui adesso non avevo ancora mischiato, ecco vedi, no? Uscirai da questo momento difficile. Devo dire che queste idee che ti vengono, queste informazioni che ti vengono date, secondo me ti cambiano proprio l'energia, perché tu saprai, secondo me tu farai uno studio preciso, visto che a te piace proprio studiare, proprio di comportamento relazionale. Relazionale si intende proprio relazioni sociali, ma anche proprio con l'amore, e come se improvvisamente tu capissi come ti devi comportare col tuo amore, che sia un amore già conosciuto o con l'amore del passato. Quindi queste tue nuove informazioni ti arrivano prima, per così dire, dal cielo, da un'intuizione, poi però vedo che vai di fatto a studiare. Ti arrivano dei segni. Ecco, mi viene da dire che ti arrivano dei segni molto chiari, anche perché tu, appunto, sentendoti un po' diverso, è come se dicessi, forse questa persona o le persone che ho incontrato fino adesso non mi hanno capita, o non mi hanno capito come sono io veramente, ma adesso forse sono io che devo comunicare di più, no? Perché tra di voi, tra le vergine, ci possono essere, cioè la vergine più introversa, più timida, e la vergine, e la vergine magari più estroversa, e naturalmente dipende sempre dalla vostra mappa natale, ecco, però io vedo che tu alla fine sei molto, sarai molto soddisfatto, soddisfatta, perché raccogli veramente quelle informazioni che ti mancavano, sia per comportarti bene con la persona che ti interessa, e vedo che raccoglierai anche dei frutti, eh? Quindi vedo proprio che ti rapporterai a questa persona, che magari potrebbe essere una nuova persona, non ha importanza, in un modo diverso, perché tu, che ami molto le cose pratiche, che ti piace la solidità, saprai comunicare nel modo giusto, e questa persona ti apprezzerà molto. Adesso io vado a mettere, e qui, questa è uscita, adesso poi la leggiamo, vado a mettere delle carte proprio su questa persona, che evidentemente è la persona che ti muove, che tu la debba ancora incontrare, che tu sogni di incontrare una persona, è proprio la persona che ti muove per fare tante cose, eh? Allora, io vedo che questa persona non vede l'ora di vederti o rincontrarti, perché qui abbiamo anche il sole, quindi qui c'è proprio un incontro, eh? Ma proprio perché tu comunque, che vuoi la solidità, che fa parte della tua natura, comunque, sarai diversa nel comportamento col partner, chiunque esso sia, passato, futuro, questo lo sai tu, Sarai diversa. Diversa, sarai più aperta, metterai un po' la tua analisi, tu fai sempre analisi minuziose della persona, così le metterai un po' da parte questa volta, ti affiderai un po' più, secondo me, da quello che vedo all'istinto, ma perché profondamente ti verrà una gioia e un sorriso interiore. E io vedo che questa persona è disponibile a costruire qualcosa con te e vedo proprio che è quello poi alla fine che tu vuoi, anche perché a te piacciono le cose pratiche poi alla fine, no? Sì, amore, passione, dolcezza, però poi vuoi anche vedere i frutti a livello pratico sei pur sempre un segno di terra, quindi io ti vedo diventare fiero, fiera di te stessa, perché questa persona ti darà grandi, grandi soddisfazioni. Mettiamoci un po' una carta dello spirito animale per vedere un po' la vostra energia, anche che cosa ti suggeriscono di fare visto un completamento a quello che tu stai facendo è come se tu mi viene da dirti cara vergine stessi creando un puzzle per te. È come se veramente fosse un completamento, qualcosa che dovevi venire a fare qui. Guarda, qui infatti ti dice ritrova la giocosità, ciò significa che hai proprio bisogno, proprio visto le carte uscite all'inizio che parlavano un po' di questo momento difficile, è come se tu ti chiedessi ma come mai le cose non funzionano, tant'è vero che poi parti da te e ti arriva questa intuizione. Quindi secondo me tu, perché ho chiesto l'energia fra voi due, ritroverai la giocosità perché tu sei anche molto spiritoso, molto spiritosa quando vuoi, quindi secondo me tu ti approccerai a questo nuovo partner oppure è un ritorno qui comunque c'è il sole, il papa, quindi rappresentano poi oltretutto vicino, di seguito, due arcani maggiori così, cioè rappresentano qualcosa di importante, quindi mi viene proprio da dire che tu ritroverai prima questa forza dentro di te, questa forza di andare avanti, ma poi io vedo proprio che ritroverai, ti troverai davanti a una persona che ti farà anche sorridere, nel vero senso della parola, troverai la tua spontaneità, Tu alle volte tendi un po' a essere controllato, no? Perché ti proteggi, invece io vedo che con questa persona, stupefacentemente mi viene da dire, tu ti lascerai veramente andare, sarai molto giocosa e quindi avrai anche piuttosto fiducia, ecco che tu prima di dare la fiducia ci pensi un bel po', quindi mi viene da dirti che questa è l'energia diciamo di base che ci sarà fra te e questa persona che sia un ritorno, no? Qui le carte fanno proprio vedere una relazione che poi è quella che tu vuoi, quindi vediamo un po' che suggerimento ti danno queste carte anche, comunque ci sarà proprio qualcosa di particolare, di specifico per te, me lo sento proprio, allora, qui ti dice ogni realtà è tale grazie alla focalizzazione di qualcuno, in questo caso il qualcuno sei tu che stai mettendo appunto un piano, un progetto di comportamentale secondo me verso le relazioni, capirai tante cose che forse prima tu facevi un po' ingenuamente, quindi avevi dei comportamenti magari particolari o di chiusura verso le cose che non ti piacevano, invece questa tua rinnovata apertura la sentirà subito questo partner, quindi la focalizzazione sei tu che metti a fuoco praticamente te stesso, infatti questa carta che ti dice che tu stai attraendo la sua essenza vibrazionale, quindi qui io la voglio tradurre in fisica quantistica, in parole di fisica quantistica, quindi praticamente cambiando la tua energia, la tua vibrazione tu manifesti, è più chiaro, è più giusto secondo me perché l'attrazione dà sempre l'idea di sforzo, invece tu manifesti perché tutto il mondo è dentro di noi, quindi tu manifesti qualcosa che è dentro di te, cioè questa che abbiamo appena detto, questa stesa, la tua rinnovata energia vergine, quindi io ti auguro davvero il meglio ogni realizzazione e passo al video successivo, ciao a tutti